buongiorno allora sono le 7 meno 5 di mattina oggi è 7 di dicembre si 7 di dicembre allora volevo iniziare un video di pulizia e vi porto con me in questa giornata premessa ho già pulito il bagno dei bimbi ho già fatto la mia doccia stavo pulendo il mio bagno e poi ho detto mi metto a girare un video di pulizia quindi adesso aggiusteremo il letto perché è ancora disfatto c'è il letto del piccolo disfatto la grande sta ancora dormendo perché oggi non l'ho mandata a scuola domani è festa e in questi due giorni me li sono tenuti a casa entrambi in più in classe di mio figlio il nonno di due compagnette è stato trovato positivo quindi per il momento mi sa che non lo mando le maestre tanto già lo sanno quindi poi oggi spolvererò non come vi ho fatto vedere l'altra volta in modo più approfondito con aspirapolvere secchio e tutto il resto ma farò tutta una cosa veloce detergente pezza pezzette in microfibra e via non vi farò vedere la come vabbè quella è una cosa che non vi ho fatto vedere neanche la volta scorsa ma l'ho fatto ieri e poi è una cosa che trovo un pochino un po' privata la cabina armadio ieri l'ho fatta di sana pianta l'ho svuotata tutta quanta e l'ho pulita tutta quanta quindi oggi non la farò non la farò solo il pavimento farò perché comunque il pavimento lo farò lo faccio tutti i giorni tutta casa non farò le porte perché comunque le lavo di sabato anche se voi non l'avete visto ma io di sabato mi metto e le lavo di sana pianta quindi oggi o darò una spolverata veloce giusto questi angolini qua questi quadratini in modo da togliere un po di polvere ma non ce n'è magari farò una cosa veloce così senza fare cornici e tutto quanto perché vi ripeto io lo faccio di sabato questa pulizia particolare delle un po più approfondita delle porte per il resto come vi ho detto spolvererò tutto farò tutto alla veloce il bagno come vi ho detto non vi farò vedere la pulizia della doccia perché comunque l'ho già fatta il bagno dei bimbi ho già finito mi manca solamente il lavandino ma perché sto aspettando che si alza la grande deve lavare i denti tutto il resto quindi non ancora non lo faccio come la stessa cosa il mio lavandino ora mi regolo se lavarmi prima perché ancora non mi sono lavate ragazze se lavarmi prima e lavarlo lavare il poi il bagno insieme a voi tutto quanto di sana pianta poi un'altra cosa di sabato faccio le pulizie con candeggina quindi l'igienizzo tutto quanto mentre invece durante la settimana faccio col detergente normale del bagno perché allora prima facevo il bagno tutti i tanti giorni con la candeggina però questione ambiente questione tante altre piccole cose sto cercando di usarlo almeno una volta alla settimana per fare tutti i sanitari e poi ovviamente nel nel vc lo faccio di martedì e di sabato metto proprio la candeggina dentro del vc lo faccio due volte a settimana per tenerlo comunque per mantenerlo bianco anche se non ho problemi di sporcizia e comunque pulendo tutti i giorni e questo ci tenevo a fare queste piccole premesse quindi ora diamoci da fare ciao ragazze allora mi avete visto giustare già in mezzo e nient'altro perché poi ho speso ho messo un'altra patrice con alcune cose rosse e infatti più tardi vi farò vedere che a letto mancherà il cucino piccolino quello rosso perché non ho aperto qua c'è il piccolo che sta facendo un po di aria sono le sette e mezzo perché è di cinque che facendo un po di aerosol perché ha un pochettino di tosse quindi non devi dare che gli peggiora la grande si è appena usata ora faccio caffè e poi continuiamo con le pulizie poi ragazze come state sono fatte sapere nei commenti io intanto giusto nel caffè ok a me lo pianto è bello pianto eh amore eh no ancora non è finita la medicina no amore vedi che c'è ancora l'aria che sta uscendo vedi e vuoi salutare le follower gli dici che stai facendo un po di aerosol io mi sono già lavata ragazze quindi ora andiamo a pulire il bagno piccolo girati un po di aerosol girati un po ciao ma non mi sono finita hai messo di sì hai ragione vediamo aspetto non sono io no non sono io non perché tu non lo capis hai ragione è finita sei stato bravissimo dillo alle follower dillo alle follower che sei stato bravissimo questo è il mio attrezzo il tuo attrezzo che attrezzo sono i miei attrezzini qua allora allora ragazze vi avevo detto che mia mamma era stata all'IKEA questa no Antonio con questo no basta dai no 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 vi avevo detto che mia mamma ops che mia mamma era stata all'IKEA e che mi aveva preso il tavolino bene questo è il risultato del tavolino sono quasi due metri di tavolino ragazze l'abbiamo montato ieri sera ancora lo devo pulire e lo devo sistemare quindi è ancora in queste condizioni perché l'abbiamo fatto ieri sera poi abbiamo cenato e sono andata a letto perché l'ho distrutta allora adesso io vado con il fuoco qua io adesso vado a continuare le pulizie e voi mi fate compagnia ok? a dopo ciao 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 ciao